Oggi abbiamo sotto gli occhi che in qualche modo... La ONLUS fanese l'Africa Chiama applica da tempo il principio di aiutarli a casa loro, i popoli africani in difficoltà, a fatti concreti e non a parole. Torna anche quest'anno la ventunesima edizione della settimana africana regionale che si svolge a Fano. Un'occasione oltre che per focalizzare l'attenzione verso il continente nero che continua a soffrire di molteplici problemi tra cui la fame e la malnutrizione ancora nel 2018, per cui l'obiettivo dell'ONU di sconfirgerla entro il 2030 a questo punto suona più come una beffa che come una speranza. La fame e la malnutrizione sono un problema che assilla l'Africa e tante persone. Si stima che siano circa 300 milioni le persone che in Africa non riescono a fare più di un pasto al giorno. Una settimana di incontri, attività e laboratori anche per i più piccoli in un'altalena tra la memoteca Montanari e i giardini di Piazza Miani. Sì, è una settimana ricca di eventi, eventi che sono dedicati un po' a tutti quanti quindi ci saranno la presenza di scrittori e giornalisti che presenteranno appunto i loro libri e terranno dei convegni. I nomi saranno appunto Daniele Biella, Maurizio Pallante e Francesco Comina. Momento clou della Notte Nera, l'attribuzione del premio Oll'Africa nel cuore che per questa dodicesima edizione va a Ivan Segnetti per il suo impegno nel combattere alla piaga del caporalato in Puglia. Abbiamo deciso di darlo a lui perché proprio in questi mesi l'aspetto, il problema del caporalato è emerso diciamo che è venuto a galla perché era presente già in passato. È importante per noi darlo a lui perché appunto ci dimostra come è importante lottare per una democrazia diversa. Accoglienza, solidarietà e conoscenza dell'altro, una serie di messaggi e tematiche che l'assessorato ai servizi sociali di Fano abbraccia ed affronta ormai da diverso tempo. È molto importante, soprattutto in questa fase storica, credo che l'Africa chiama metta a disposizione dei cittadini fanesi ma anche della regione e quindi siamo ben lieti che possano arrivare anche d'altrove. Tutta una serie di informazioni e dati molto realistici e capaci di rivedere un po' ecco quello che oggi si sta disseminando nel nostro paese che è la cultura della paura, la cultura anche a volte dell'odio e dell'espulsione. Dobbiamo trovare una formula che sia corretta, che sia sostenibile, ma sicuramente con un'apertura verso dei fratelli che sono in difficoltà.